Barata di Buffon Aiai, stanno correndo rischi davvero inutili La mette in mezzo Isco Mette il turbo Lautaro Martinez Si fa trovare pronto e allontana il pallone Pallone, Coutinho E la pallone è il 3-0 Goi meraviglioso Il portiere non poteva fare nulla contro una bomba del genere Ha impresso al pallone tutta la sua forza Una sassata imparabile Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti Cerca lo spunto Fa del suo meglio per allontanare il pericolo Non può sbagliare, qui deve tirare E insacca no Vantaggio che comincia a essere molto comodo Si è aggiustato bene il pallone prima di tirare E poi è riuscito a insaccare senza nessuna difficoltà Isco Cristiano Ronaldo Riceve in posizione interessante Casemiro C'è tiro Gol di vantaggio E gol di vantaggio Si spegne la luce per gli avversari Ha tirato un missile Una confusione di una potenza terrificante L'ha fatto sembrare facile Ma questo gol nasce da una potenza che non tutti hanno nelle gambe Si riparte dal 3 a 0 Bell'anticipo Pericolo sventato Cerca l'uomo là davanti E' ben posizionato E spazia via la palla Opportunità di ripartire Ottimo il fraseggio Prova a passare con un pallone profondo Sembrava che stessero per concretizzare un'azione iniziata bene Dovranno riprovarci Prova la conclusione Sembrava il totale controllo della gara Rubata palla agli avversari Sono stati velocissimi a ripartire Un contropiede portato in maniera perfetta Sergio Ramos Spinazzola Lautaro Martinez Chance per tirare Ce l'ha fatta Ne segna l'un altro Adesso piove sul bagnato Beh devo dire che non mi aspettavo una simile batosta Ma bisogna comunque rendere onore al merito degli avversari Hanno giocato una gara fantastica Spinazzola Fa avanzare l'azione con il lancio lungo Lautaro Ecco il tiro E adesso sta diventando un'umiliazione Fabio stanno cercando di migliorare le loro statistiche sulla differenza reti D'altra parte nessuno degli avversari glielo sta impedendo Rifletta Head trick Che partita eccezionale la sua Beh la sua sfida con i difensori avversari oggi è decisamente vinta Luca Spachetà Contrasto in scivolata Recupera il pallone in scivolata L'arbitro dice che si può proseguire Piché L'altra Valtino Go Non sbaglia Continuano in filo su una difesa che fa acqua da tutte le parti Se continua così i tifosi torneranno a casa con un bel po' di anticipo quest'oggi Uno spettacolo che non vorremmo vedere Ma il risultato è giusto Quanto gol Ha fatto poker Tocco morbido C'è la palla filtrante Bella apertura Ci mette il fisico e conquista il pallone Scodella in avanti Scatta verso il pallone Va a concludere La palla termina sul fondo Sulla destra Era proprio lì Davanti alla porta Va buttato via l'occasione Palla in avanti Palla in avanti verso il compagno Si avvicina la porta Si avvicina la porta Occhio al tiro